Ragazzuoli siamo tornati su Brawl Stars, spero che oggi non ci sia nessun tipo di hacker perché l'ultima volta sono riusciti ad entrare nel mio account e a mettermi la Brawl TV in ogni singola partita con tipo 40.000 spettatori cose folli. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, dobbiamo battere il mio vecchio record di trofei che è di 32.301. Sono molto confident che oggi probabilmente ci riusciremo perché ho una bella strategia, ho una bella strategia per fare molti trofei e soprattutto in fretta. E ragazzi di YouTube se volete venire in live, apparire nei video, qualsiasi bella cosa, anche entrare nel mio club, mi chiamo Lollo Lacuster, sono in live alle due un quarto di pomeriggio e alle nove un quarto di sera. Guardate che carini, quanti siamo? Sono on fire, yes sir! Allora ragazzi, la mia strategia di oggi è molto esotica. L'altra volta abbiamo scoperto che le win streak nella survival, o come piace chiamarla a me, però in realtà è showdown, sono molto illegali perché ogni vittoria sono più o meno 15 trofei. Ma io mi sono detto, perché non prendere un brawler che è già abbastanza altino, perché se prendo quelli bassi poi è un casino, trovo soltanto random scarsissimi, gente che ha appena iniziato a giocare. Perché non prenderci un brawler circa 500 trofei e pusharlo direttamente a 750, boom, ci arrivo e si switcha al brawler dopo. Secondo me è una bella giocata. E vorrei partire con un brawler che ho già portato un pochettino su, che in questo caso è Bolt, se c'è ancora la mappa di ieri. Come ne ho detto, non c'è la mappa di ieri, perfetto. Peccato, perché quella mappa era veramente illegale. Allora si va su Eist, e su Eist si potrebbe pushare in base ai brawler che ho in questo momento avviati. Uh, Penny non è male, Daryl, Rico... No, andrei di Penny, vi dirò la verità, vai. Niente ragazzi, anche oggi l'hacker ci mette i nostri 104 spettatori, come non detto. Sempre presente a guardare le mie live. Allora, allora, allora. Cristian, andiamo giù, perfetto. Bravissimo, quel Dyna ha usato... Uh, ho visto un grandissimo errore da parte di quello Spike. È un grande rischio, bro, mettere quella cosa. Perfetto, si va di torretta, adesso iniziamo a dominare per bene. Niente, impossibile scappare da quel trenino, maledetto. Però non hanno nessuno che colpisce a distanza, quindi mi diverto un attimo con la mia torretta. No, me la tira giù? Sì, buona. Abbiamo comunque fatto dei danni che ci hanno portato più o meno in pari, ora recupereranno sicuro. Porco cane! Eccoci qua ragazzi, 69 spettatori. Come non detto, veramente incredibile. Ehi, 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 Dynamike. Perfetto, uno è andato. Abbiamo un Colt ora, che ci separa da quella Heist. Impossibile prendere quel Colt. Penny, non mi spinnare, maledetto. Niente, si sono fatti fuori a vicenda le torrette. No, no, non ci credo. Ok, però i miei compagni possono fare qualcosa, se vogliono. Allora, Dynamike. Bell bravo, niente. 5.400 di danno in faccia, così. Crow, bravo. Finalmente ti sei svegliato, ti sei ricordato che hai un attacco. Guardate che i random sono veramente incredibili, ragazzi. Sono veramente incredibili. Oh, una giocata recente, incredibile. Perfetto. Daina, siamo solo io e te, Dynamike, ok? 14 secondi e abbiamo vinto, ragazzi. Let's go. Posso anche stare fermo, tanto questa partita è portata a casa con 69 spettatori nell'avrò il TV, è incredibile. Ehi, ti ho visto che non hai lasciato like al video e mi raccomando, ricordati di bere due litri d'acqua al giorno. Io ho appena finito i miei. È importante per la tua salute. Niente, adesso non è più Brawl TV, ma a quanto pare sono diventati degli spettatori. Va bene così, ragazzi. No, aspetta perché c'è Anita con l'orso. Spero che riesca a difendere la nostra Jessie. Ha difeso abbastanza bene. Ok, adesso sono finito sulla Brawl TV dopo aver avuto 8.000 spettatori. Non penso che funzioni esattamente così, eh. Non penso proprio. Niente. Andata. Guardate che in sta mappa veramente mettersi è il primo, sei un malato mentale. Niente. Lobby di giocatore a campione mito e i miei compagni sono a diamante. Questo fa capire tutto di quanto Brawl Stars si ha equilibrato. Mannaggia. A campione, zio Pera. Come sei arrivato a campione, tu? Ma magari anche si muovessero, tipo spawnassero. Dove sono i miei compagni? Cosa spinnate? No, zì, cosa state spinnando? Ok. Grandissimo. Perfetto. Riposizioniamo la torretta. Un bel gadget tattico. Ok. Jessie, gasami con quella torretta, con l'overdrive. Ti prego. Guarda, Jessie, come sta cucinando. Mi dispiace, Lollo è persa. Però non è persa finché non lo dico io. E le 2374 persone che mi stanno guardando in questo momento. Comunque, cioè, se questi sono arrivati a campione, ci posso arrivare pure io, eh. Zio Pera. Gli avversari, intendo. Piano. Attenti a quelli. Grandissimo Crow. Siamo a rischio, perché abbiamo la torre a 29 e loro ce l'hanno a 13. Mi sa che tocca andare di gadget. Non c'è più la torretta. Perfetto. Questo è arrivato sprecando tutti i colpi sulla mia torretta. No, ce la facciamo, ce la facciamo. Vai. Let's go. E si porta a casa questa partita, ragazzi. Buona, abbiamo fatto la maestria. Allora. Edgar. Qui possiamo giocarla bene o possiamo giocarla male? Niente. Il brawler con più skill del gioco è arrivato con i suoi amichetti. Ok. Almeno ci siamo difesi da questo, se n'era un bel problema. Dobbiamo fare un bel comeback ora, eh. Ok. Questo è stato un bel comeback, devo dire la verità. Quell'Edgar ha concesso gran bei danni. Ha lasciato lì per qualche strano motivo la mia. Oh! Non ci posso credere, grandissimo Sasuke. Che giocata, brother. Grandissimo Sasuke. Il king. Sto rompendo tutti i forni d'Italia da quanto sto cucinando. Mio fratello che plerono, mi capisce. Uh, ok. Sono con Marta e con brawler muco. Vediamo come se la cavano questi due brother. Anzi. Un brother e una sorella. O due sorelle, non lo so. Loro non hanno una comp proprio al calibro della nostra, insomma. Quella Piper non cucina così tanto bene. Ah, tra l'altro non leggete mai, ragazzi, le cose di Piper perché sono molto ambigue. Chissà, sa. Marta. Ok. Bravissima torretta. Ok, ha sprecato la cosa. Gaming libro. Non riusciamo ad essere aggressivi. Siamo abbastanza forti anche in difesa, relativamente, ma... Oh, la mia torretta sta facendo grande giocate, eh. Chi ha attivato l'overdrive? Qualcuno dei nostri, perché sto vedendo la loro torretta decimarsi completamente. Ah, Marta è un botto, ho capito. Va bene, Marta. Grandissima giocatrice. GG. Abbiamo vinto con un singolo push da parte di muco. Guardalo. Che grande, mamma mia. La clacciata, mentre noi difendevamo. Ciao, Buzz. Se riesco a prendere quel crow... Ok. No, dai, doveva rimbalzare il colpo. Rip. Mi sa che vado giù dal veleno, quindi tanto vale. Perfetto. Guarda la mia torretta lì nel chill. Dai, buttami giù la torretta, bro. Bye, bye. Easy. E si porta a casa anche questa partita, ragazzi. Let's go. No, ma non ci posso credere. Mi hanno tolto la modalità mentre la stavo giocando. Non ci posso credere, ragazzi. Brawl Stars retina. La forma di questa mappa è un po' esotica. Però mi piacerà giocare un po' di Brawl Ball. Non Brawl Stars. Brawl Ball. Brawl Ball potrei pushare per un po' Cordelius. Ok. Ehi. Vai, 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 vai. Matti! Sei un grande, brother? Mi sa che qua riesco a correre dentro, sì. Let's go! Ti porta a casa tranquillamente questa vittoria. Allora, qui andrei bello caldo in questo modo. Non c'era nessuno lì. Ma veramente. Che cacchio è successo? È passato in mezzo a quel dog, il colpo. Ok. Tanger. Non so se te ne sei reso conto, ma siamo in una dimensione dove io sono più forte di te. Oh, mi sa che lo sono anche nella dimensione normale. Bravissimo, Matteo. Non si è piaciuto, brother. Eh già, mi sa che lo sono anche lì, brother. Vieni qua. Oh, 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 oh. Si torna nella dimensione solo per fare gol. Allora, Matteo vuole giocare ancora. Gliela concediamo una partita perché è stato bravo. Mi sei piaciuto, Matteo. Vai. Allora, ragazzi. Per tutti quelli che mi chiedono come gioco, ho connesso il mio telefono al computer con un cavo. È il suo cavo originale. E uso un'applicazione che però è a pagamento. Però io gioco dal telefono, quindi a meno che streammate, non vi conviene comprarla. Esperienza personale. Mamma mia, quanto cavolo è forte sto brawler comunque. Dove sono i miei compagni? Bro? Ok. Qualcuno sta arrivando a prenderti. Cos'era con la roba lì? Oddio, ma è bruttissima. No, mi ha preso. Mi ha preso, mi ha preso via. Ciao. Victory! La giocata è stata mia, a quanto pare. Ah, per così poco. Vabbè. GG. Oh! Non dirò niente. Guarda, mi auguro che rimanga epic. Non funziona la... Non funziona, ragazzi, la psicologia inversa, a quanto pare. Oh! Swag questo spray. Tra l'altro ho una teoria su una cosa che dovrei provare con voi, ragazzi. Pocho, Jackie e Dog. Secondo me, se vanno tutte e tre in porta, non li puoi fermare. Perché uno guarisce l'altro. Nani, dovrei andare io nella porta. Vabbè, vado io comunque. GG. Non mi ha nemmeno preso quell'ank, va bene. No, aspetta. È vero che... Devo ricordarmi che la super non fa niente. Mi serve solo per resuscitare. Sta cosa che guarisce comunque è OP, eh. Ok. Senti al bro. Niente, volevo darle al mio bro, ma... Ice spike. Niente. Uno a uno. Palla al centro. Dobbiamo stare tranquilli. Niente, il bro fa dislike, va bene così. GG. Oh, abbiamo contro un GX. Stanno diminuendo però i GX, ragazzi. Allora, io voglio un sacco bene a Grax, lo dico sempre, però... Ragazzuoli, dovete mettervi LL nel nome. Contrastiamo i GX. Questo non sa giocare. Wynon. Mi dispiace per te, brother. Contrastiamo i GX. Grazie. Triple kill. E si fa gol con la ulti, ragazzi. Questo è un bellissimo highlight. Guardate qua. Uno. Due. Tre. E star player. Win streak da dieci, eh. Vorrei sottolineare. Con la tara ha deciso di farsi gli affari suoi e mi va benissimo così. Si rubano un po' di power-ups. Ok. Direi di rimanere nel centro, anche perché... Oddio, si può caricare l'hyper-drive stando fermi con questa cosa qua. For real? Vai, kit. Jumpami. Niente. Showdown contro... Vieni qui. Let's go. Ok. Non serve. Voglio andare contro quel mico perché è uno di quei brawler che proprio non so... porto. GG. Oh, c'è un altro Cordelius. Aspetta. Con otto power-up. Orca vasca. Rischiosa questa mossa, ma... Dovuta. Dovevo, più che altro. Orca. Angelo, lasciami stare, bro. Aia. Oiii, quell'angelo non è stupido, però, eh. Lo uso per ricaricarmi la super. Oh! Mamma mia, quanto cavolo è forte. 5900 di danno è un po' insane, eh. Sei sicuro di voler fare quello che stai facendo? Vabbè, niente. Quell'angelo spara a me. Quell'angelo è un pro player, ragazzi. Mi ha one-shotato quella cosa del veleno. One-shotato. E c'avevo quanti power-up? 8? Un po' broken, eh. Un pochino broken. Un pochino broken. Oh, c'è un angelo. Angelo, hai veramente sfracassato. Vieni qui. Angelo. Giuro, fra... Uno non si team, ma due... Quel brawler non ha senso. Oh no. Non sapevo ti stannasse, amico. GG. Oh, Otis. Che carino. Ehi. Vieni qui. No, non ci credo. No, poverino. Mi sento in colpa. È così carino, Otis. Devo stare attento perché ci sarà sicuro le on in questi cespugli. Ma... Che fa? Leon. Tutto bene, brother? Non mi fa troppa paura quel Leon. Cosa sta facendo questo mod? Questo... Ma... Non ho capito. Ve lo giuro non sto capendo cosa stavo facendo. Ricarichiamoci la super con il bro nel cespuglio. E appena ho la super... Vado nel cespuglio. E lo busciamo. Mamma mia, quanto fa male. Ehi. GG. Abbiamo fatto anche un po' di mastery. Ragazzi, sono ad una partita dalla mia win streak. Dobbiamo giocare bene. Ti prego. Oggi in classe stavate guardando i miei video. Che chad. Ragazzi, se guardate i miei video in classe, mandatemi le foto. Che a me fa un sacco piacere. Quel kit vuole timmare. Non si fa, bro. L'ho visto, kit. Non pensare che... Qualcuno vuole timmare. Non ci riuscirai, bro. Mi dispiace. Niente, quello può tranquillamente distrugermi. Quindi devo stare attento. Quel brawler lì a sinistra non mi fa troppa paura. In realtà, meglio andare giù. Almeno non mi prendo le esplosioni della sua super. Qui potrebbe esserci qualcuno. Cecchiamo con questo. Non c'è nessuno. Potrebbe esserci sempre un lion invisibile. Perché abbiamo imparato anche quello. Quel tizio lì, Ioannis Toso, mi sta facendo ricaricare la super. Grazie, bro. No, aspetta. C'è qualcuno in questi cespugli sicuro, allora. Perché mi si stava ricaricando la super? Meglio non stare nel mezzo. Non la vedo troppo positiva. Il problema è che non so davvero dove andare. Perché là stanno fightando hard. Ok. Si ruba la kill hard. Siamo in top 4. E abbiamo fatto la win streak. Ora bisogna arrivare primi, però. Non c'è nessuno nel mezzo. C'è un lion là sotto che non mi fa troppa paura al momento. Cordelius è molto più broken di lion al momento. Uno. Due ossa i power up. Mamma mia, che fortuna. GG ragazzi. Showdown si porta a casa un'altra vittoria. E pareggiamo la mia win streak. Portandolo a 340 trofei come se fosse burro ragazzi. Quanto è fastidioso l'emotico del clown da 1 a 10? 17. Siamo quasi alle 32k, eh? Lasciatemi cucinare ragazzi. Brawler che mi piace di meno. Attualmente quello che non giocarei proprio è Ash. Allora, Ash all'epoca era veramente broken. Adesso proprio no. Ciao Noragami. Perché stai spinnando? Allora, Noragami probabilmente è un fan. Noragami. Non si teama, ma con te chiuderò un occhio. Nel senso che ti lasciamo andare a giocare per i cavoli tuoi e non ti facciamo fuori. Uh, let me cook. Ecco, aspetta chi ce l'ha? Un altro Cordelius. Però ha il gadget. Devo stare attento. Ehi, ehi, ehi. Ciao kit. Mi jumpi, ti prego. Niente. Ho jumpato dall'altra parte. Tecnicamente posso vedere dov'è con il... Questa cosa qua. Ma sicuramente è lì. Ma? Guarda quel kit! Bro, dai, vieni qui. No, volevo backstabbarlo istantaneamente per aver teamato con me. Ah, ok. Dai, forse ho capito. No, ha quittato! Oh, era diventato un bot per un secondo e mi aveva così fatto fuori. Vedi di ridarmi la palla, Pocho, bravissimo. This is crazy. Oh, Angelo. Are you sure about that, bro? Oh, Angelo. Mi hai preso. Bravo, Angelo. Oh, oh, oh. Oh, oh, my God, bro. Oh, my God, bro. Oddio, che il matte mi fa paura, però. Un attimo. Cosa mi fa... Zio, il clown non lo accetto. Sincero, il clown non lo accetto. No, non ho preso il gatto, però è andato su, meno male. Voglio vincere contro quel kit, ragazzi. Godo! Ma? Allora ragazzi, abbiamo portato un nuovo brawler a 500, siamo tornati alle 32.000 coppe, abbiamo pareggiato la mia win streak. Per me questa è stata una giornata estremamente proficua su Brawl Stars. Allora ragazzi, adesso sto andando a registrare un video che probabilmente avrete già visto o vedrete con Grax. Io nel frattempo vi saluto. Da Kustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete vedere altri miei due video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Let's go!